Dovrebbe iniziare adesso. Guardate cosa sta succedendo. Perché succede questo? Succede perché c'è questo spostamento di temperature, di sole che gli animali lo percepiscono molto più delle persone. Cala la temperatura, una strana ombra si allunga disorientando uno stormo di uccelli. Sono le 10.32 circa. Ecco il momento clou dell'eclissi parziale di sole che ha tenuto con il naso all'insù centinaia di persone all'osservatorio astronomico di Pietra la Croce ad Ancona come abbiamo raccontato durante la nostra diretta tv. Grazie alle strumentazioni offerte dal gruppo marchigiano Astrofili, adulti ma anche bambini delle classi quarte e quinte dell'elementare di Pietra la Croce hanno osservato in sicurezza il sole nero per il passaggio della luna che l'ha coperto al picco massimo per il 63%. Grande affluenza per lo spettacolo offerto dal cielo, alcuni hanno atteso anche un'ora per dare una sbirciata dentro al tubo del telescopio dell'osservatorio. Interessante soprattutto vederla al telescopio e vedere il telescopio piuttosto che stare a casa con la lastrina o gli occhialetti. C'è la fila e speriamo di arrivare in tempo a vederla. Sono in coda da più di un'ora però ne vale. Più di un'ora? Sì, sì, infatti speravo di arrivare nel periodo di massima e clissima, non importa. Qua riusciamo a vedere proprio in maniera nitida e dettagliata e si riescono a vedere quelli che sono chiamati grani di riso sulla superficie solare. Cosa sono questi grani di riso? Allora il sole si comporta come una pentola d'acqua bollente, quindi si creano delle celle, delle bolle che come in una pentola d'acqua salgono in superficie e il sole è la stessa cosa. Quei grani che vediamo sono quell'effetto lì. Possiamo vedere anche le macchie solari. Grazie. Grazie.